Buona giornata amici e bentrovati al quotidiano appuntamento con la rassegna stampa di Fano TV. Oggi è martedì 14 febbraio 2023, una data importante perché lo vediamo subito con l'almanacco del giorno per vedere chi si festeggia oggi. Ebbene oggi si festeggia San Valentino, eccolo qua nella grafica, tutti lo conoscono come santo degli innamorati, ma chi era veramente San Valentino? Ebbene San Valentino, anzi Valentino, nacque a Interamna, una località presso Terni in Umbria nel 176. Convertitosi al cristianesimo fu vescovo di Terni a soli 21 anni. Ebbene scoperto come cristiano fu imprigionato e fu portato davanti al prefetto. Il prefetto gli intimò di rinunciare alla sua fede. Valentino invece non si scosse e continuò a professare la fede in Gesù. Allora fu bastonato con le verghe fino quasi a morirne, però non riuscirono a sopprimerlo a forza di bastonate e quindi Valentino fu decapitato. Allora è stato posto agli onori degli altari, a lui furono dedicate diverse chiese e una delle sue reliquie, anzi alcune sue reliquie, oggi riposano anche in una chiesa nella nostra provincia, a Sasso Corvaro, ovviamente molto venerato a Terni e poi in altre pari e parti del mondo. Comunque è il santo degli innamorati, quindi un santo che fa tenerezza, che fa unione, che fa calore. Questo è San Valentino. Ed ora passiamo alle previsioni del tempo, come sempre. E vediamo che oggi perdura il bel tempo su tutta la regione. Bel tempo con un sole splendente per l'intera giornata. I venti saranno al mattino moderati da ovest e sud ovest, al pomeriggio moderati da nord ovest. Il mare è poco mosso, le temperature si gireranno dai 3 ai 12 gradi, si sta elevando leggermente quella massima. Non fa molto freddo, devo dire, anche se al mattino in qualche località si è raggiunti anche il meno uno, quindi siamo già sotto zero. Comunque la temperatura, quella percepita almeno, non è così fredda come in passato. Questo per quanto riguarda il tempo. Ora apriamo i giornali. I giornali nazionali questa mattina parlano di diversi argomenti. Ci sono ovviamente i risultati delle elezioni regionali in Lombardia e in Lazio, con la vittoria del centro-destra. Ci sono anche le dichiarazioni di Berlusconi che hanno suscitato un mare di polemiche. Berlusconi, insomma, così si è posto, lui dice di no, si è posto comunque dalla parte di Putin e quindi questo ha suscitato delle polemiche. Ci sono sui giornali. Oggi poi si parla di oggetti non identificati, ancora palloni che sembrano volteggiare sul cielo degli Stati Uniti, quindi vengono abbattuti. Insomma, si parla anche di oggetti non identificati e quindi di UFO, ma ovviamente la cosa è stata smentita dalla America. E poi si parla anche di cospito che riprende l'uso degli integratori. Non voglio suicidarmi, ha dichiarato l'anarchico. E questo per quanto riguarda le notizie nazionali. E ora noi invece apriamo i giornali nelle pagine locali. Ecco il resto del Carlino. In Viale Alighieri è peggio di prima. Auto in sosta anche sulla ciclabile. Ebbene, i primi giorni di sperimentazione della nuova viabilità in via Dante Alighieri non ottengono i risultati. Infatti i cittadini continuano a parcheggiare le auto anche nel lato della strada dove è stata realizzata la pista ciclabile e quindi il parcheggio sarebbe vietato. La protesta dei residenti. La gente non ha capito la sperimentazione e parcheggia alla vecchia maniera. L'avvocato dei residenti bisognerebbe fare capire meglio le nuove regole e soprattutto farle rispettare. E quindi occorrerebbe un presidio di vigili urbani in zona, almeno nei primi giorni, che non dovrebbero fare le multe ma dovrebbero insomma illustrare ai cittadini qual è la nuova viabilità, qual è il suo scopo e soprattutto insomma riuscire a convincerli a rispettare le regole. In Viale Dante Alighieri tutto è come prima, forse anche peggio. A qualche giorno dell'avvento della sperimentazione, lo leggiamo sul resto del Carlino, nel tratto tra via Bramante e Viale Battisti nessuno sembra rispettare la nuova viabilità. Gli automobilisti che dovrebbero parcheggiare a spina di pesce solo sul lato mare continuano invece a lasciare le auto anche nel lato monte riservato ai pedoni tra l'alberatura e le case oltre il percorso ciclabile. Loro sono convinti di non infrangere le regole, le nuove regole che sono state così instaurate, che sono state così imposte su questa strada, ma in realtà non è così e sono in difetto, quindi occorre magari portare dei correttivi. E si parla anche sul Corriere Adriatico della vicenda di Viale Dante Alighieri. Vediamo qua il titolo. Viabilità, sperimentazione, flop, auto in sosta sulla pista ciclabile. La corsia protetta delimitata solo dalla vernice e non c'è anche un cartello per il divieto di parcheggiare. Ovviamente si parla di via Dante Alighieri. Probabilmente una pista ciclabile delimitata soltanto dalla vernice non è il massimo per la protezione della sicurezza. Comunque la gente che ha un po' di sensibilità per la mobilità dolce dovrebbe rispettare anche una riga per terra. E poi si parla del Lido. Si parla del Lido in entrambi i giornali. Vediamo il resto del Carlino. Lido abbandonato a quando la riqualificazione è una interrogazione del Movimento 5 Stelle per chiedere interventi dalle strade al piano della sosta fino ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Vediamo anche il Corriere Adriatico. Sull'articolo di spalla al Lido circolazione caotica e pericolosa, rischi per i disabili e mamme con carrozzina. Anche qui dunque si parla della interrogazione del Movimento 5 Stelle a cui dovrà dare una risposta l'assessore alla mobilità della Giunta, che è l'assessore Brunoli, che è anche assessore poi ai lavori pubblici. Torniamo al resto del Carlino e vediamo come il giornale prenda in esame la situazione dell'ex Carducci, questo stabile del campus scolastico che dovrebbe essere abbattuto in quanto la sua stabilità è stata pregiudicata secondo i tecnici e quindi dovrebbe essere riedificato di nuovo. C'è un finanziamento statale che ancora è in ballo, insomma, non è stato sbloccato perché è all'esame della Corte dei Conti, ci sono problemi burocratici e intanto è il terzo anno questo che gli studenti appunto dell'ex Carducci sono un po' dislocati in varie sedi cittadine. Ma il giornale oggi annuncia una novità, non sarà solo l'ex Carducci ad essere demolito ma c'è anche lo stabile che si chiama Aule che dovrà essere abbattuto e ricostruito 6 milioni e 200 mila euro di risorse regionali. Questo stabile accoglie 450 studenti che al momento non si sa che fine faranno quando i lavori inizieranno, insomma dovranno sgomberare questa aula, questo nuovo edificio e quindi al momento rimane un punto interrogativo. Intanto i ragazzi dove li mettiamo? Dice il titolo appunto sul resto del Carlino. Dopo l'annuncio che oltre al Carducci anche lo stabile Aule sarà demolito e ricostruito si pone il problema per 450 studenti da ridistribuire le preoccupazioni del preside Giombi, preside che comunque ha risolto bene tutti i problemi che gli sono presentati dopo che questo edificio, l'ex Carducci, è stato dichiarato inagibile. Vediamo ora ordine pubblico e siamo a San Costanzo. Ragazzini indebitati per droga, nei guai il cuoco con la cocaina. Si tratta, si tira in ballo uno chef che ovviamente non lavorava soltanto con la farina ma lavorava anche con un'altra polvere bianca. 35 grammi di cocaina sono stati trovati dai carabinieri a gennaio scorso nelle mani, per modo di dire, ovviamente nelle mani di questo personaggio e gli sono stati costati la richiesta di una condanna a quattro anni e dieci mesi di reclusioni. È da parte del PM Maria Letizia Fucci. L'imputato è un 42enne romeno finito in manette per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo era coinvolto in un giro di droga tra Ancona e Fano. Poi vediamo anche quello che dice il suo difensore, l'avvocato Marco Defendini, che ha insistito sostenendo che quella sostanza fosse per consumo personale e non c'è alcuna prova di cessione, non ci sarebbe alcuna prova per cessione a terzi. 35 grammi di cocaina. E qui vediamo una pena d'amore. Ebbene, siamo a San Valentino e possiamo tranquillamente parlare anche di pene d'amore. Invaghito della cassiera chiede a tutti di lei, è stato denunciato. Un pensionato di sessantenni a Fano si era invaghito di una cassiera di un supermercato, un coal. Ebbene, è stato un colpo di fulmine che fare, però questo signore non aveva il coraggio di dichiararsi e quindi è cominciato un po' a sondare le amiche e i conoscenti di questa ragazza per avere il suo numero di telefono, tanto che lei si è sentita infastidita e lo ha denunciato. Lo ha denunciato, lui gli ha chiesto scusa, ha detto che non si farà più vedere, purtroppo è una pena d'amore che rimane come pena e lei ha ritirato la denuncia e quindi probabilmente le cose finiranno così. Un pensionato di 60 anni si mette a fare il detective per avere il suo numero, ma la donna non gradisce e quindi è stato denunciato. Poi è stata ritirata la denuncia. Ci sono diversi casi che parlano un po' di pene d'amore, di situazioni amorose oggi sui giornali, perché oggi è San Valentino dunque ed è giusto che si tratti di questo argomento. Pericolo allagamenti a Marotta, Nord in Trincea. Ebbene, la giunta del sindaco Barbieri sta così cominciando a trattare seriamente questo problema e sta cercando di correre a ripari prima che si verificano nuovi nubi fragi e nuovi allagamenti. Proseguono dunque gli importanti lavori di sistemazione idraulica a protezione dell'abitato di Marotta, Nord, una zona a rischio per quanto riguarda l'acqua. Un investimento di quasi 3 milioni di euro, per l'esattezza 2 milioni e 770 mila euro sono stati impiegati per realizzare delle strutture come una vasca di prima pioggia e il nuovo canale di raccolta delle acque meteoriche che adesso da Via Chienti proseguirà fino alla ferrovia. Sono opere idrauliche che dovrebbero ricevere l'acqua ed impedire che questa poi di laghi in superficie e quindi invada campi e abitazioni come è accaduto in passato. A Urbino si parla di carnevale, si parla di carnevale, maschere e dolci, la città si veste a festa. Le contrade stanno lavorando da gennaio per realizzare appunto una bella festa, il corteo sfilerà in piazza Duca Federico per poi tornare in piazza della Repubblica. Dunque torna il carnevale in città e c'è un doppio appuntamento che evidenzia il Carlino. Si tratta un doppio appuntamento tra sabato e martedì 21 febbraio con travestimenti, getto di dolciumi e radio studio più. Presentato ieri mattina il carnevale ducale organizzato e promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Contrade e promette questa iniziativa di regalare tante tante emozioni. Ebbene il carnevale è già una bella festa in sé per sé ma realizzato nella cornice rinascimentale di Urbino acquista un valore pari a quello io dico che il carnevale di Venezia acquista in piazza San Marco. Insomma sia il palazzo ducale di Urbino che il contesto di piazza San Marco sono due scenografie eccezionali che solo l'Italia può offrire. Giriamo ancora il giornale. A Mercatello e a Lunano c'è un grido d'allarme del sindaco di Mercatello che è una signora. Una signora, la vediamo qua nella fotografia, Fernanda Sacchi. Fernanda Sacchi dice che togliere le banche in queste località decentrate dell'entroterra è come privare un servizio essenziale soprattutto per gli anziani. Mercatello e Lunano, addio figliali, grido d'allarme dell'entroterra, ci vogliono togliere anche la banca. Ebbene si tratta dell'Agenzia di Intesa a San Paolo di Mercatello sul Metauro che dovrebbe chiudere il prossimo 23 giugno e passare l'operatività all'Agenzia di Sant'Angelo in vado. Mercatello non è molto vicino a Sant'Angelo in vado e se uno deve compiere un'operazione ogni volta deve spostarsi e compiere questo tratto di strada, insomma non è un servizio certo agevole. E poi vediamo un sinistro stradale. Un furgoncino va in fiamme, l'incendio domato dai vigili a Urbino. Disagio sul fronte viabilità. Per fortuna il conducente è rimasto in leso e sul posto si sono recati la polizia locale e anche i carabinieri. Si tratta di un furgone che è andato in fiamme sulla statale 73 bis nei pressi della rotatoria tra via Morti e il centro commerciale. Per fortuna, dicevo, il guidatore dell'autista è rimasto in leso. Qualche notizia che riguarda Pesaro. Vediamo come si parli di amore. Ve l'ho annunciato prima e vediamo l'amore tra due portalettere. Si tratta di Mario e Vanessa. Un amore preso alla lettera. È bello questo titolo perché si tratta veramente di due postini e la lettera è stata un po' quella che ha intrecciato questo rapporto così amoroso tra i due. Ebbene, lei era una postina da poco e lui invece aveva già una certa esperienza. lavoravano a Roma insieme. Ora invece sono a Frontone. Lei alle prime armi aveva difficoltà a consegnare le lettere, tanto che a un certo punto si era posta a sedere al margine della strada piangendo perché quel giorno non riusciva a terminare il turno. Ebbene, lui le si è avvicinato e si è offerto di consegnare, di terminare il giro al suo posto e da lì giorno dopo giorno è nata la scintilla e i due si sono innamorati. Mi ha fatto una carezza e ha detto che sbrigava le consegne. Da lì è nato tutto. Ebbene, è bella questa storia. Ma il patrono degli innamorati e santa pazienza, tenerezze ma anche ironia nei messaggi che i lettori del Carlino rivolgono tramite il giornale alle loro dolci metà. Una carellata, vediamo qui, di messaggi d'amore un po' come quelli che si trovavano nei baci perugina che un tempo, ahimè, un tempo solo venivano gettati sulla folla dal Carnevale di Fano. Intanto nei ristoranti si apparecchia la passione perché insomma oggi andare a mangiare al ristorante è un po' un messaggio d'amore anche che si fanno tra le coppie, cene a lume di candela e menù speciali per la notte più romantica dell'anno. E i locali tornano a riempirsi come prima del Covid. E poi ti volti indietro e non credi ai tuoi occhi. Quanta strada percorsa nella mano con la mano, ma il cammino è leggero, si è condiviso con la persona giusta, altri pensieri degli innamorati. Sono frasi che sono state strappolate appunto dalle espressioni di tenerezza che un fidanzato rivolge alla fidanzata o viceversa. Insomma dà un po' di piacere, di serenità leggere oggi i giornali di fronte alle tragedie dei giorni scorsi. Ed ora diamo un'occhiata anche al Corriere Adriatico dove si parla di carnevale in apertura. Si parla di carnevale perché il carnevale è anche una festa di carattere economica. Perché insomma quando arrivano 10.000 persone che si concentrano in un sol posto, molte delle quali arrivano da fuori Fano. Vediamo che oggi si quantificano anche quante sono arrivate da fuori Fano, almeno quante hanno soggiornato negli alberghi. Sono state 750. Qualcuna ha soggiornato per due notti, altre per una notte sola. Comunque quelle sono quelle degli alberghi, ma ovviamente ci sono poi tutti coloro che sono arrivati al mattino della domenica e se ne sono tornati alla loro case dopo la sfilata dei carri al termine della luminaria che ha dato quella bellissima atmosfera suggestiva all'interno del percorso di Viale Gramsci. Comunque quelli che hanno guadagnato di più sono stati i ristoratori. I ristoratori perché hanno potuto lavorare sia nei confronti di coloro che si sono fermati negli alberghi, sia nei confronti di coloro che sono arrivati al mattino, che hanno potuto così partecipare agli eventi di corredo della grande sfilata pomeridiana, come il Carnevale dei Bambini, la sbiciclettata che è stata fatta da forbici, oppure il Carnevale in soup. Insomma tante iniziative anche al mattino, quindi a mezzogiorno hanno pranzato negli alberghi e poi nel pomeriggio hanno partecipato alla grande sfilata dei carri e gli alberghi e i ristoranti hanno lavorato, dicevo, tantissimo, tantissimo, erano tutti pieni, tanto che una signora che doveva prenotare un pranzo per 15 persone che arrivavano da Roma ha faticato moltissimo a trovare un ristorante che potesse accogliere la sua prenotazione, la sua richiesta e se alla fine si è dovuta rassegnare con due tavoli separati, insomma questa tavolata di tutti i 15 persone non si è trovata in tutta Fano, il Carnevale ha riempito i ristoranti, ma negli hotel non più di 750 turisti e abbiamo delle dichiarazioni oggi sia del direttore provinciale della Confcommercio Amerigo Varotti che del presidente degli albergatori Luciano Cecchini che dicono che bisogna insistere per investire ancora di più nei weekend per attrarre turisti e fare lavorare anche gli alberghi, non solo i ristoranti. E intanto promozione si è svolta ieri alla BIT di Milano che è la principale fiera turistica che si svolge in Italia e lì veramente hanno creato molto molta attenzione la musica arabita e i rappresentanti del Carnevale di Fano insieme all'assessore Etienne Lucarelli che ha partecipato appunto a questa iniziativa. Lucarelli con la Gian Marioli ha promosso l'edizione 2024 della Kermesse e qua vediamo il titolo che appare sulle Corriere Adriatico. La musica arabita suona alla BIT di Milano. Abbiamo parlato del monossido di carbonio nei giorni scorsi per un rischio che ha coinvolto una famiglia in quelle di Marotta a causa del difetto di funzionamento di una stufa a pellet. Monossido, la donna è fuori pericolo, rischi in casa, stufa a pellet difettosa, manutentore mette in guardia sul gas subdolo. Ebbene occorre fare molta molta attenzione quando si usano questi strumenti dove c'è la brace, dove si usano dei combustibili che possono emettere dei gas pericolosi. È fuori pericolo dunque la donna straniera che domenica sera è stata soccorsa a Marotta in via delle regioni a causa di un soffocamento. La donna di origine extracomunitaria è stata salvata dal pronto intervento del 118 in extremis. L'episodio però ha fatto scattare l'allarme sulla manutenzione degli impianti di riscaldamento. In via delle regioni a Marotta è stata domenica scorsa un impianto con la stufa a pellet a provocare l'accumulo di esalazioni all'interno di un ambiente domestico. Quindi occorre fare molta molta attenzione. Serve manutenzione, serve il rispetto delle normative di sicurezza per evitare poi delle tragedie che possono appunto concludersi con effetti molto molto deleteri. La Fano Grosseto, si parla della Fano Grosseto a Fano su questa pagina perché il Presidente del Consiglio Comunale di Grosseto è stato presente domenica scorsa al Carnevale di Fano, un'occasione per gli amministratori, il Sindaco e il Presidente del Consiglio di Grosseto di ritirare fuori il problema dell'ultimazione della strada che dovrebbe unire i due mari. Fano Grosseto asse politico per la strada dei due mari. E poi vediamo ancora per frontone rifugi per le avventure sul Catria, nuove strutture già prenotabili. Giriamo ancora la pagina, troviamo quella di Senigaglia. Un uomo è stato trovato in casa con 12 armi non denunciate. In casa fucili, pistole e una sciabola. Ovviamente è stato denunciato. Ed era l'ultima notizia. Chiudiamo il giornale. Come sempre vi do appuntamento a domani alle 7. Intanto vi auguro una buona giornata e soprattutto un buon San Valentino. Grazie per l'ascolto. A risentirci.